Sensazioni bellissime, devo dire, anche dal primo giorno in cui sono arrivato qui. Mi hanno accolto veramente bene lo staff, il mister, i miei compagni. Si vede già che si respirava un'altra aria. Appunto siamo nei professionisti e quindi è una cosa meravigliosa. Sabato abbiamo esordito questo girone di ritorno con una bellissima vittoria. Abbiamo dato una prova di carattere forte che mancava ed era giusto dare per far vedere a tutti che noi siamo presenti e questo girone di ritorno per noi è importantissimo. Ovviamente ho bisogno di tempo anche per capire certe dinamiche. Il gioco del mister mi piace tantissimo, ama palleggiare e soprattutto fa correre velocemente la palla. Quindi mi devo un po' adattare a questo gioco. Sono molto contento, devo dire, di come stiamo lavorando. Io sono qui principalmente per crescere a livello calcistico. Sto lavorando duramente, giorno dopo giorno e cercherò di farmi trovare pronto quando il mister mi chiamerà in causa. Ecco, questo è il mio obiettivo personale. Farmi trovare pronto, soprattutto in questa parte di campionato molto delicata. A Imola andiamo con lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto a Pesero. È un'altra battaglia da vincere. Sono tutti scontri diretti per noi. Non c'è una partita da lasciare punti. Dobbiamo fare più punti possibili, centrare il prima possibile l'obiettivo salvezza. E poi chissà, puntare sempre più in alto. Ecco, la nostra mentalità è pensare partita dopo partita. Stavo ricevendo diverse squadre, diverse proposte in Serie D. Ho aspettato, ho temporeggiato un attimo. Poi è arrivata questa chiamata di Teramo. E' un treno che passa una volta. E sono salito subito su questo treno. Ho accolto subito questa proposta. E sono veramente felice di stare qui. Giocherò tutte le mie armi a disposizione per rimanere il più lungo possibile in questa categoria.